Un mazzo di fiori, un paio di scarpe rosse, ma soprattutto ancora una volta l'invito a tutte le donne a denunciare o contattare le forze dell'ordine per attivare una protezione sociale nei loro confronti. E questo è il messaggio mandato da molte associazioni napoletane alle donne vittime di violenza, un fenomeno che soprattutto nell'ultimo anno con il lockdown si è accentuato con numeri davvero che fanno riflettere. La morte di Ornella, Pinto, è solo l'ultimo vergognoso atto di una guerra sociale che da anni si cerca di combattere, soprattutto educando le nuove generazioni. Per ricordare la giovane mamma uccisa con 12 coltellate dal compagno davanti al figlio di 4 anni, oggi bandiere a mezzasta al Consiglio regionale della Campania. La decisione è stata assunta dal presidente del Consiglio, Gennaro Oliviero, che ha accolto la richiesta della vicepresidente Loredana Raia. È la prima vittima di femminicidio del 2021 in Campania. Ornella è stata anche ricordata all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove i medici inutilmente per ore hanno tentato di salvarle la vita. Gli operatori sanitari, la direzione, il centro antiviolenza Daphne del Cardarelli e la senatrice Valeria Valente, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, si sono dati appuntamento alla panchina rossa dell'ospedale per testimoniare la volontà di proseguire nella lotta contro la violenza sulle donne.